Aumentare le potenzialità della coscienza, raggiungere le esperienze di picco che sono quegli attimi di improvvisa e travolgente felicità in cui la vita sembra meravigliosa, allenare la strana abilità di afferrare la realtà di un altro spazio e un altro tempo. Sono questi alcuni temi che tratta Colin Wilson in Supercoscienza, alla ricerca delle esperienze di picco di Edizioni Clon. Supercoscienza è un libro teorico e pratico. Teorico perché Wilson, il filosofo e ricercatore britannico molto prolifico, amato e temuto da David Bowie, offre molti esempi della letteratura, della psicologia, della spiritualità, della poesia, dell'arte, per raccontare e spiegare che cosa accade alla coscienza quando accede a un livello superiore, quando la coscienza riesce a percepire ciò che solitamente non percepisce nella realtà quotidiana. Ed è un libro pratico perché Wilson non si limita a dialogare strepitosamente con Edmund Husserl, Nietzsche, Uspensky, Jean-Paul Sartre, Camus, ma cerca di spiegare in che modo si possa conseguire volontariamente, quindi non solo eccezionalmente, un livello di coscienza straordinario. Ma non è tutto. Ci sono anche altre domande che Wilson si pone durante tutto il libro. Possiamo dare un seguito a quelle improvvise estasi che ci fanno sentire fibre incandescenti dell'universo. Possiamo gestire i postumi di una sbornia emotiva e spirituale senza poi scadere nel disprezzo per la quotidianità. E infine, possiamo vivere la maggior parte della nostra vita, quindi non solo alcuni sporadici episodi con lo stesso ardore con cui reagiamo nell'eccitazione sessuale inondati da un desiderio che ha il sapore della verità. Ecco, questo è il fulcro di supercoscienze, un allenamento attento e costante alla felicità, che non è semplicemente il benessere, ma la profonda ed elevata abilità di sperimentare un livello superiore di coscienza, un livello ulteriore di sapere e di farlo anche negli episodi della vita quotidiana. Supercoscienza è un libro che parla a diversi tipi ideali di lettori. Parla a chi cerca una soluzione quotidiana e forse un po' magica per essere stabilmente felici, al di là delle eruzioni di momentaneo entusiasmo. Si rivolge a chi sente, pensa che la realtà non sia semplicemente quella che si vede, o per dirla con Merleau-Ponty, che il visibile ha esso stesso una membrana di invisibile. Dialoga con gli esigenti amanti della storia dell'arte, della letteratura, della filosofia e li infastidisce. Li infastidisce perché il taglio di questo libro non è accademico e a tratti è addirittura provocatorio. E infine si appella a coloro che nella disperazione hanno cercato una via di fuga dalla banalità della vita e vi hanno trovato volenti o nolenti una gabbia. Ecco, con questo libro colto e nello stesso tempo coinvolgente, Colin Wilson invita ad uscire dalla gabbia delle convinzioni e delle percezioni ordinarie e invita ad affermare una cosa tanto semplice quanto profonda. La mia coscienza può spingermi a essere più reale di quello che penso di essere. Buona lettura. Grazie.